In una dimensione che mi sembra renda omaggio alla scelta compiuta dal professor Ciro Sbailò di pubblicare il suo magnifico lavoro per una casa editrice tedesca, noi ci atteniamo alla modalità tedesca e cominciamo alle nove e mezzo come da programma. Quindi vorrei pregare il professor Fabio Bisogni, che è il nostro vicepresidente della Consiglio di Amministrazione della UNINT, di portare i suoi saluti istituzionali. Grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. È un piacere dare il benvenuto a tutti voi, dare il benvenuto ai nostri illustri ospiti. Oggi celebriamo la pubblicazione di un volume, un volume importante che combina filosofia e diritto, e in una tematica che è così centrale nella ricerca e nella didattica del nostro Ateneo. Ho notato che c'è tanto Severino in questo lavoro, ma soprattutto c'è tanto dello stile del nostro Ateneo. E quindi innanzitutto mi vorrei congratulare con il suo atore, il professor Ciro Sbailò, per davvero la chiarezza e lo spessore della pubblicazione. Dicevo tanto del nostro Ateneo, proprio nell'introduzione del libro si menziona la necessità per tutti noi di pensare in maniera originale e in maniera creativa, è quello che noi facciamo tutti i giorni in questa università, non soffermandoci sulla parte superficiale dei problemi. E per questo spingiamo e spingiamo tanto sull'interdisciplinarietà. Non è un caso oggi che vengono affrontate tematiche trasversali, non è un caso oggi che la componente cyber sia così ben rappresentata. Per questo lasciatemi veramente ringraziare, un saluto speciale, un ringraziamento al direttore dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, il prefetto Bruno Frattasi. Grazie di essere qui oggi. Oggi è un'occasione per noi per aprire una finestra in quello che facciamo tutti i giorni. C'è un'esigenza forte, si parla tanto, ad esempio, nell'ambito cyber di specializzarsi. Noi crediamo molto che il connubio specialisti-generalisti, che funzioni nel migliore dei modi, nella stessa persona. Si può essere specialisti, ma se non si ha una competenza generale, di come quella specialità si colloca all'interno di un problema così trasversale come la cyber, ad esempio, il valore della risorsa all'interno dell'organizzazione dove poi si andrà a lavorare, e all'interno, perché no, del sistema paese è chiaro che si indebolisce. Quindi oggi è una bellissima giornata, come dicevo, per celebrare questa pubblicazione che però riflette in pieno lo spirito e la filosofia di questo Ateneo. Grazie mille. Grazie, grazie al Presidente Bisogni. E allora, investito questo ruolo di moderatore, io entro nella mia attività di moderatore. Innanzitutto mi rivolgo ai colleghi relatori, cari gentili relatori, caro Presidente Bisogni, cari studenti, in presenza e in collegamento, caro Preside, illustre direttore Frattasi. Mi è stato assegnato questo compito di moderare un importante convegno di studi, cui però potrò assolvere in modo rapsodico a causa della concomitanza della sessione di esami. Oggi è l'ultimo giorno degli esami, si sono presentati, grazie a Dio, tutti oggi, quindi, come potete immaginare, qualche aula più in qua di questa. E me ne scuso con tutti e innanzitutto con i relatori. Mi permetterete di salutare, citare il Professor Paolo Passaglia, che, come vedete, è presente in virtuale, diciamo, da remoto, perché a causa di problemi sopravvenuti non ha potuto raggiungerci fisicamente, ma è in collegamento con noi. Lui passerò la parola per l'introduzione. Il Professor Passaglia sviluppa sempre acutissime riflessioni che sono coerenti con un comparatista di livello internazionale, quale lui è. Successivamente ascolteremo l'intervista al Professor Sbailò, fatta da due colleghi, la Professoressa Sciacovelli, a me cara due volte, perché, peraltro, condividiamo una dimensione etnica. Siamo entrambi baresi, quindi questo è un aspetto di cui bisogna tener conto. Non è un aspetto marginale, soprattutto in un periodo così caldo. Infatti, vedete, la previdenza di un barese è quella di portarsi il ventaglio, perché non si sa mai che cosa accade. E il Dottor Severa, che saluto, conosco quest'oggi. E infine le attese e conclusioni del Direttore Frattasi, del Prefetto Frattasi, che, peraltro, è persona a noi cara, avendo sviluppato un'esperienza nella nostra università anche come docente, ed oggi ricopre questo prestigiosissimo ruolo di Direttore dell'Agenzia per la Cyber Security in una dimensione di grande coerenza con tutte le sue attività sviluppate nel corso di una carriera veramente molto importante, molto seria. Il dibattito parte da un lavoro del professor Sbailò. Bailò, mi sia consentito il dire, è un intellettuale atipico, la cui originalità si situa nell'attitudine a spaziare dalla filosofia severiniana, è stato citato da Fabio Bisogni, il suo entrare in più di una disciplina, quindi dalla filosofia severiniana al diritto pubblico comparato, coltivando alcune irriducibili curiosità scientifiche intorno alla Cyber Security. In realtà si tratta di dissonanze tematiche, solo apparenti, perché l'una dimensione di studio intreccia fili con l'altra in un continuum che si nutre anche di un fecondo rapporto con l'insegnamento. E gli studenti qui presenti, stoicamente presenti, nonostante la calura romana, sono la testimonianza di quanto sia apprezzata la sua attività di docente. Questo terreno di coltura ha predisposto l'uscita di un importante lavoro scritto in lingua inglese ed edito dalla tedesca Nomos, dal titolo Eriops Cold to Arms, in italiano, facciamo prima, chiamata alle armi, radici filosofiche, profili di diritto pubblico del confronto con il mostro del ventunesimo secolo, cittadalizzazione senza democratizzazione, Baden-Baden, 2023. Si tratta di un lavoro importante e dirò subito ispirato da una fiducia severiniana nella tecnica che lo fa muovere verso una convincente confutazione dei tardi epigoni del pensiero spengleriano sull'ineluttabilità del tramonto dell'Occidente, anche se non sono occultate le difficoltà in cui si muove la società europea, ispirata dai principi democratici e liberali e minacciata da molti nemici. Sbailò, peraltro, osserva che c'è un antamento diseguale tra lo sviluppo esponenziale delle tecnocrazie, delle tecnoscienze e quello degli strumenti politici e giuridici chiamati a regolarle. L'esito di questa distonia temporale è rappresentato dalla vulnerabilità delle democrazie europee e più in generale occidentali, che però si tramuta in un vantaggio per i nemici perché non vincolati dai canoni imposti dallo Stato di diritto e dal diritto umanitario e pertanto in grado di colpire l'Occidente democratico. Oltretutto, avverte l'autore, si registra una pericolosa recessione della democrazia globale al punto che anche i paesi di più recente transizione verso l'approdo democratico sembrano soccombere alle suggestioni autoritarie. Da tutto questo, Sbailò fa discendere... Scusa, c'è un problema tecnico? C'è un problema tecnico. A proposito di tecnica. Era una battuta, Pino. Sì, prego. No, sto aspettando che tu dica qual è il problema tecnico. No, è finito. E' finito? Dovevo spostare questo. Dovevo avvicinare questo. La tecnica è bella perché crea anche queste meraviglie. Uno immagina che sa che cosa dovrebbe... Grazie, grazie perché facevo una fatica tremenda. Va bene, va bene, grazie. Devo avvizzare un pochettino la... Va bene. E dicevamo, da tutto questo, Sbailò fa discendere la necessità di una difesa comune da parte degli europei ammonendo i costituzionalisti di non cedere al dirittismo o al tecnicismo costituzionale ma di accettare la necessità della riscoperta di un ruolo politico lato sensu del giurista di fronte all'evidente politicizzazione dello spazio pubblico europeo. La forza innovativa della riflessione che accetta di muoversi in una dimensione di attraversamento di più discipline sta nella ricca confutazione delle teorie del tramonto della cultura occidentale affermando, al contrario, la vittoria resiliente di tale cultura sugli attacchi portati dai suoi nemici. Lo stesso concetto di criticità osserva Sbailò è parte del pensiero giuridico occidentale e chi avanza l'obiezione spengleriana non si avvede del fatto di muoversi nello stesso orizzonte critico già elaborato dal diritto europeo. Quanto alle sfide geopolitiche portate all'Occidente attraverso la visione panslavista di Putin l'espansionismo cinese o l'islamismo tutto questo non fa altro sostiene Sbailò che esaltare la sua capacità dell'Occidente di resilienza in forza anche del suo progresso tecnico-scientifico e della sua tenuta democratica. L'autore rammenta ciò che è avvenuto nella drammatica vicenda della pandemia e che ha visto la pretesa vulnerabilità occidentale vincente sull'autoritarismo cinese refrattario alla diffusione delle informazioni e all'accoglimento delle indicazioni della comunità scientifica. Vado in conclusione e mi domando che cosa dice poi questo libro stimolante qual è il suo nocciolo è un invito rivolto alla dottrina costituzionale europea a studiare le condizioni concrete per giungere alla migliore protezione dei valori e degli interessi occidentali tenendo conto della nuova natura delle minacce ormai caratterizzate in una forma ibrida e transnazionale. E qui ritorna il tema della difesa comune europea intesa anche come preludio ad una soggettualità piena dell'Unione Europea in cui interessi e valori possano fondersi nella consapevolezza della necessità inderogabile di riconoscersi come unità nella pluralità di culture e tradizioni. Perché solo così in un mondo globale che da molto tempo ormai non è più quello di Yalta ma neanche quello unipolare del dopo Berlino si potrà avere la forza necessaria per spezzare egemonie arbitrarie. Credo che la carne a fuoco sia cospicua se posso usare un'espressione alimentare anche succulenta illuminata peraltro da una ontologia dell'ottimismo che non fa male al mainstream scettico che circola oggi in Occidente e che forse questo mondo occidentale non conosce fino in fondo le virtù della tecnica. Allora la mia pre-moderazione attraverso un brevissimo indirizzo di saluto che ha fatto anche riferimento avete capito a quanto mi è piaciuto questo libro è finita e io sono felice di poter dare la parola ad un autorevole collega come Paolo Passaglia. Prego Professor Passaglia. Grazie Presidente inizio scusandomi per l'assenza purtroppo ieri mi ha sopraggiunto un problema familiare che era improcrastinabile e quindi ho chiesto se era possibile visto che tenevo molto a essere presente se era possibile almeno essere presente virtualmente purtroppo per poco tempo appunto in ragione di questo problema personale che mi ha trattenuto a Pisa però tenevo almeno a manifestare a dare il mio piccolo contributo per cercare di far capire quanto è importante questo libro è un libro importante beh forse sarebbe sufficiente dire che ha una collocazione editoriale di un prestigio tale da renderlo comunque importante è importante per l'internazionalizzazione che di per sé manifesta lingua è importante per l'attualità dei temi che evoca per il respiro contenutistico per l'impostazione metodologica perché in sostanza si va in questo libro dalla filosofia teoretica alla geopolitica passando dal diritto comparato diritto pubblico comparato diciamo se se l'aggettivo pubblico in questo caso non viene inteso come troppo limitativo perché sappiamo che anche privatisti comparatisti sono assolutamente hanno nelle corde la possibilità di dialogare su questo libro ecco già questa questo passare da discipline così apparentemente distanti credo sia sufficiente per dar conto del peso di questo libro all'interno del dibattito attuale all'interno dei dibattiti attuali già credo che forse il problema sia diciamo il punto da chiarire è proprio questo cioè quale dibattito quali dibattiti sono quelli su cui interviene questo libro credo che la domanda sia piuttosto insidiosa perché in realtà credo che uno dei messaggi nemmeno subliminari direi che l'autore ci ci fornisce in questo libro è che in realtà ci sono vari dibattiti varie questioni che si intrecciano si sovrappongono si intrecciano e mi verrebbe da dire in maniera inestricabile se non fosse che non sono inestricabili per l'autore perché effettivamente riesce a districarsi in un groviglio di questioni che già non è semplice individuare isolare direi anzi direi che isolare le singole questioni è già un modo per dare conto della chiave di lettura che il lettore utilizza per decrittare i messaggi contenuti nel volume e cogliere l'insegnamento che di cui il volume è ricco non a caso è partito come volume dedicato agli studenti poi ho la sensazione che si sia un po' diciamo esteso rispetto a questo intendimento perché se è per gli studenti fortunatamente non ho fatto l'esame di diritto pubblico comparato alla UNIT perché sarebbe stato intosto complicato ecco diciamo questo provo a dire la mia chiave di lettura cioè provo a dire quelle che secondo me sono le questioni centrali di questo libro dando per presupposto che probabilmente questa risposta data da dieci persone porta a un numero significativo di risposte variegate allora direi che ci sono due questioni principali che poi diciamo che poi sfociano in una terza allora la prima questione è la metto in termini un po' brutali se volete se me lo consentite ancora se nel contesto attuale proporre l'alternativa secca l'alternativa se vogliamo manichea tra guerra e pace perché noi abbiamo ragionato negli ultimi decenni di guerra dando per presupposto che la guerra noi intendo come giuristi pubblicisti dando per presupposto che la guerra fosse una cosa di astratto qualcosa di astratto sì c'erano le guerre però erano lontane non ci si pensava non ci riguardava ma insomma era un problema di diritto internazionale il costituzionalista il pubblicista comparatista in fondo vede la guerra come una cosa del passato che sì potrebbe tornare però ecco questo vedere la guerra sullo sfondo aiutava obiettivamente la questione guerra pace nel senso di dire che si vuole essere pacifisti e si può essere pacifisti ecco quello che sta succedendo secondo me ci sta dicendo e il libro di Sbailò lo chiarisce benissimo che per essere pacifisti bisogna essere in due perché se c'è un pacifista che mette il fiore nel cannone ma quello che c'è il cannone vuole sparare non è che il cannone non spara perché c'è il fiore quindi se si vuole essere pacifisti bisogna rendersi conto che bisogna essere in una condizione in cui si possa ragionevolmente esserlo è triste ma temo che sia così per troppo tempo ci si è illusi che fosse sufficiente il dialogo il dialogo richiede un interlocutore e richiede soprattutto un interlocutore che sia pronto ad ascoltare e allora arriva il problema e cioè come si fa a rendere l'interlocutore recalcitrante pronto ad ascoltare in fondo credo che sia uno dei temi che diciamo sta alla base di tutta l'elaborazione che poi sfocia nel libro e la risposta di Sbailò è più o meno questa cioè la banalizzo perché ovviamente Ciro ha una ricchezza un'elaborazione una ricchezza del pensiero che io restituisco in modo molto molto banalizzante me ne scuso il primo ruolo con lui se si vuole creare un dialogo e le condizioni per un dialogo anche di fronte a un interlocutore recalcitrante bisogna dotarsi di una capacità di rendere l'interlocutore recalcitrante sostanzialmente invogliato se non sostanzialmente costretto a quanto meno ad ascoltare e allora accanto alla capacità di persuasione bisogna accettare l'idea che ci debba essere anche come extrema razio per carità una una capacità di se non intimidazione quanto meno diciamo un suggerimento di possibile intimidazione la risposta ha il grande questa risposta credo che abbia il grande pregio del realismo anche se magari oggi è il 14 luglio quindi mi farete usare una parola francese possono derangeant perché derangeant soprattutto per chi mi ascrivo a questo novero è affezionato all'idea della pace all'idea che si possa vivere in un mondo di pace e quindi si possa dimenticare o mettere sullo sfondo la guerra la guerra purtroppo sta sempre meno sullo sfondo bisogna tenerne conto e bisogna affrontare il problema non come uno struzzo ma a viso aperto arriva a questo punto la seconda questione perché queste tematiche conducono direttamente a un altro aspetto che anima il volume anzi il volume si intitola come diceva il nostro presidente in un modo inequivocabile il fulcro è l'Europa e allora la questione è qual è il ruolo dell'Europa in tutto questo ecco i cambiamenti di questi anni nello scacchiere mondiale impongono inevitabilmente una rivisitazione anche del ruolo dell'Europa impongono un cambiamento del ruolo dell'Europa che parta esattamente dalla constatazione che è stata la base della creazione dell'incipit del processo di integrazione europea e cioè Francia da sola Germania da sola figuriamoci l'Italia sono insufficienti sullo scacchiere mondiale il mondo è cambiato ci vuole una politica che sia oltre il confine tradizionale che dalla caduta dell'impero romano i confini che dalla caduta dell'impero romano forse meglio dalla formazione degli stati nazionali hanno caratterizzato la storia dell'Europa c'è bisogno di un mettersi insieme per creare un soggetto che sia idoneo a fronteggiare le nuove sfide questo soggetto è stato costruito in un contesto in cui le nuove sfide erano soprattutto economiche infatti è un soggetto nato come soggetto economico che a un certo punto anni 80 e poi soprattutto anni 90 si incomincia a pensare che è un soggetto che probabilmente ha bisogno anche di essere politico soggetto economicamente forte perché lo è ma che deve essere anche politicamente forte ma cosa vuol dire politicamente forte e fino a poco tempo fa si pensava un soggetto politicamente forte è un soggetto che ha una capacità di persuasione forte se non fortissima salvo poi renderci conto che non basta più e allora il soggetto politica se vuole essere un soggetto politicamente forte deve essere un soggetto che sia capace di difendersi e attenzione qui la difesa non è non è solo la difesa la difesa armata ma è forse direi soprattutto in prospettiva la difesa da attacchi diciamo di cyber terroristi eccetera quindi c'è una una prospettiva generale di difesa che renda forte il soggetto e contemporaneamente che dimostri che questa europe's calls to harm è una richiesta che è dell'Europa e dell'Europa nel senso di consentire all'Europa di giocare un ruolo di primo piano nel mondo e non la delegarlo con una delega in bianco ad altri soggetti questo discorso porta a un tema carissimo all'autore quello del tramonto dell'Occidente perché la sensazione che la risposta al tramonto ora se lo dico per la terza volta all'amico Ciro viene l'orticaria quindi cercherò di evitare di usare per la terza volta questo termine però questa difficoltà che si percepisce in relazione all'Europa in realtà è una difficoltà che non si manifesta per problemi interni ma è più che altro una difficoltà che deriva dal fatto che non si è non si viene più riconosciuti come non si ha più un ruolo non si viene più riconosciuto un ruolo come europei che in realtà noi sentiamo di sentiamo di meritare in sostanza non ci basta più guardarci allo specchio per capire per capire che tutto sommato non siamo messi così male o non siamo sicuramente messi peggio di altri che di altri sistemi che invece sembrano così così in vigore non ci basta più guardarci allo specchio abbiamo bisogno che ci venga riconosciuta una forza intesa in questi termini molto lati ovviamente per riaffermare se stessi agli occhi degli altri e quindi anche agli occhi propri e a questo punto il discorso su questa capacità di influire su sull'interlocutore recalcitrante portandolo al dialogo è una capacità che in realtà dimostra deve dimostrare la forza che l'Europa ha la forza che l'Occidente ha il vantaggio che l'Occidente e l'Europa nel primo piano ha che è soprattutto il fatto di potersi guardare allo specchio senza aver di una destabilizzazione perché abbiamo gli anticorpi per superare mi rendo conto che sto parlando forse un po' troppo avevo un quarto d'ora l'ho già esaurito un ultimo minuto però me lo vorrei riservare se il Presidente me lo consente l'ultimo minuto è proprio tirare le fila del discorso che ho cercato in modo forse un po' confuso di condurre e cioè il volume affronta tutte queste tematiche le affronta in modo organico e le affronta in modo organico appunto partendo dalla filosofia teoretica arrivando alla geopolitica in fondo credo che il messaggio che dà è che questi processi che sono processi complessi sicuramente difficili da gestire hanno una prima caratteristica che deriva dal fatto che devono comunque essere guidati a livello giuridico il che è già un elemento che caratterizza l'Occidente rispetto a altri sistemi che varie classificazioni definiscono per esempio di rule of politics quindi devono essere guidati dal diritto ma il problema è che finora sono stati spesso guidati dal diritto orientati essenzialmente dai principi della filosofia del diritto e dalla filosofia politica ecco il messaggio credo che l'autore ci dà è ci lascia questi processi non devono ovviamente prescindere dalla filosofia del diritto e dalla filosofia politica perché comunque deve essere presente ma questi processi non possono prescindere da una presa in considerazione da una consapevolezza coordinate geopolitiche entro cui i problemi si iscrivono e entro cui i problemi devono essere affrontati sicuramente non sono riuscito a tenere insieme o comunque a dare una coerenza logica al mio discorso quella coerenza logica che invece si coglie leggendo il volume di Ciro Sbailò spero di non aver balonizzato troppo quantomeno spero di aver nella individuazione delle mie chiavi di lettura di questo volume che è bello anche perché offre tantissimi spunti e ognuno ci può leggere lo può leggere da una prospettiva diversa non è una cosa da poco ecco spero di non aver restituito una banalizzazione eccessiva che ovviamente si riverbera sull'autore del discorso che è stato che è stato invitato spero di non aver demeritato l'invito in sostanza e vi ringrazio per l'attenzione mi scuso per il tempo grazie anche di dovermi assentare fra pochissimi minuti grazie per la registrazione vedrò il seguito sì sicuramente abbiamo documentazioni che ti consentiranno di avere il quadro completo dell'andamento del dibattito anche dopo quando dovrai allontanarti non avere non avere problemi in realtà io credo che noi ti dobbiamo ringraziare anche non solo per ho usato un'espressione prima che faceva riferimento al menu che il professor Sbaglio aveva proposto alla nostra attenzione attraverso il suo libro parlare di succulento un menu succulento e l'intervento del professor Passaglio è stato succulento nel senso che ha seguito questo registro e peraltro ha seguito e io sono veramente molto grato un invito che è contenuto nel lavoro di Ciro ed è quello di allargare l'approccio e di farne scusate adesso sono io tu non hai fatto banalizzazione ma faccio io la banalizzazione di creare un approccio politico tra virgolette un approccio politico cioè dobbiamo riscoprire una dimensione d'approccio che sia quella politica è una parola questa che mi ricorda altri mestieri che nel mio karma precedente venivano coltivati adesso non vengono coltivati più proprio nel paese non esiste è una cosa di desuetudine totale e quindi mi fa piacere che l'abbia raccolto invece un autorevolissimo autore e collega come Paolo Passaglio grazie grazie professor Passaglia a questo punto abbiamo un momento particolarmente gradito e vivace perché si svilupperà un'intervista avendo due intervistatori d'eccellenza l'amica professoressa Anita Larissa Sciacovelli che abbiamo già capito che è barese ma quindi viene dall'università degli studi di Bari ma svolge con noi un'attività di docenza ha una grande cognizione della cyber security perché fa parte dell'agenzia europea appunto per la cyber security e il collega Francesco Severa segnista di ricerca in diritto costituzionale presso l'università degli studi di Roma 3 entrambi avranno questo momento dialogico con il nostro autore che non so se vorrà avvicinarsi agli intervistatori o preferisce rimanere nella fascia laterale perché così prende un po' di distanze dagli intervistatori non si sa mai se le domande possono essere anche non particolarmente gradite allora prego cominci tu grazie di questo invito mentre io qua mi sento a casa il libro dell'amico del collega professor Sbailò già il titolo mi ha incuriosito moltissimo perché so che è un pacifista quindi Europe's how to come pacifico pacifico ma no pacifista no pacifista già dal titolo mi ha molto interessato perché una chiamata alle armi da parte dell'Europa mi sono chiesta quali armi quali armi perché poi ho visto che è l'unico volume in Italia ma anche all'estero che analizza diciamo i profili legati all'utilizzo delle ultime tecnologie e al discorso che la la tecnoscienza non ha un carattere neutrale cosa che si discute da tanto tempo e quindi ho avuto in mente il motto francese alla guerre come alla guerre per capire quali sono gli strumenti di cui attualmente dispone l'Unione Europea anche nel rapporto di contrapposizione e collaborazione con la Nato principalmente so che il professor Sbailò si occupava di questo tema già da prima dello scoppio della guerra in Ucraina infatti ne abbiamo parlato proprio in questa sede con il generale Graziani e quindi l'analisi che viene svolta nel libro partendo da profili che sono stati messi in evidenza con grande interesse da parte del professor Pazzaglia mi ha fatto riflettere su quello che è il nuovo paradigma della difesa e della sicurezza in Europa specie alla luce di alcune considerazioni prima di tutto adesso non parliamo più di comunicati di guerra ma parliamo di Twitter di guerra quindi il ruolo dei social media nel contesto della guerra in riferimento proprio a questo nuovo paradigma oltretutto sappiamo che sette generali russi sono stati uccisi e individuati grazie all'utilizzo che veniva fatto del telefonino e quindi di quello che è il riconoscimento facciale che viene effettuato in secondo luogo abbiamo l'utilizzo di unmaned vehicles quindi di droni quindi la tecnologia che entra in maniera preponderante all'interno di questi del conflitto e anche questa rappresenta la prima guerra che non ha un inizio cinetico come noi tutti pensiamo cioè non c'è stato prima l'attacco fisico con l'utilizzo di munizioni convenzionali ma diciamo già qualche mese prima secondo gli esperti ma esattamente un'ora prima dell'attacco fisico c'è stato un attacco cibernetico l'attacco al sistema di comunicazione satellitare via SAT un sistema statunitense che consentiva il collegamento negli Stati Uniti e in Europa in particolar modo con l'Ucraina perché l'idea sicuramente del cremino era quella di svolgere una blitzkrieg diciamo bloccando tutte le comunicazioni sia nel settore militare che anche in quello civile cosa che poi non è stato per fortuna realizzato grazie all'intervento e attenzione di un privato quindi noi vediamo che in questa guerra c'è l'ingresso dei privati Elon Musk a supporto di quello che è la difesa militare e l'altro elemento importante sul quale appunto vorrei chiedere l'opinione dell'autore del libro è il fatto che siamo in una guerra in cui viene weaponized usano questo termine l'inglese e vengono appunto utilizzati come strumenti non convenzionali di guerra la pressione energetica con lo strumento appunto energetico lo strumento anche della pressione alimentare e sappiamo che ci sono appunto le navi che vengono spesso bloccate nel Mar Nero e poi abbiamo anche da parte della Belorussia la pressione migratoria quindi la domanda che volevo io porgo una serie di domande se va bene perché diventa poi anche così più coerente secondo me la possibilità di una risposta è qual è la risposta che l'Unione Europea dà alla guerra ibrida perché ci piaccia o non ci piaccia l'Europa insieme agli altri paesi alleati ai paesi partner si trova all'interno di una guerra ibrida quindi noi siamo di fronte a una guerra che è combattuta sul territorio in Ucraina è una guerra ibrida in cui noi siamo necessariamente purtroppo immersi con l'impiego di questi strumenti ultimo ma non meno importante anche la guerra di informazione che ruolo ha la guerra di informazione nella chiamata alle armi e quale può essere la risposta specie alla luce del futuro che ci aspetta giugno 2024 saremo tutti chiamati alle elezioni politiche le elezioni del Parlamento europeo e quindi come si difende l'Europa in questo nuovo paradigma della difesa in questo nuovo paradigma della sicurezza quindi è anche la prima guerra che si svolge in tutti i domini che attualmente esistono quello terrestre quello marittimo quello atmosferico ex atmosferico e anche quello cibernetico cibernetico in cui noi vediamo la presenza di attori statuali la federazione russa la Cina per altri per altri diciamo risvolti stato richiamato di recente proprio l'altro giorno al rapporto conclusivo dell'incontro di Vilnius della Nato l'Iran che nello scacchiere mediterraneo ha anche un ruolo molto importante e la Corea quindi ci troviamo con attori statali e anche attori non statuali il professor Pastaglia diceva prima questo richiamo manicheo alla differenza tra la guerra e la pace bene negli studi che noi stiamo effettuando con i colleghi americani e in seno appunto all'agenzia europea per la cyber security c'è un continuum cioè adesso un collegamento tra il crimine cibernetico e la guerra cibernetica perché la federazione russa avendo a disposizione cinque unità cibernetiche che appunto combattono nello spazio cibernetico utilizza anche quelli che noi chiamiamo tecnicamente i proxys c'è gruppi criminali di hacker criminali che combattono accanto alla federazione russa ed effettuano poi tutti gli attacchi di cui noi siamo vittima anche ovviamente in paesi europei ma anche in Italia nonostante devo dire l'incomiabile sforzo che viene effettuato da parte sia dall'agenzia che anche della polizia postale cibernetica e sappiamo che il settore che viene più attaccato è quello appunto sanitario per poi non parlare ovviamente anche della serbegiade del terrorismo sul quale si sofferma lungamente appunto il professore nel libro qual è quindi l'attività di resilienza chiedo al professor Sbailò che può essere che viene effettuata che viene riconosciuta in questo contesto e poi volevo anche appunto chiedere la qual è il ruolo della diplomazia perché la diplomazia è un'arma l'Unione europea e il professore lo scrive a grandi lettere dice che c'è il cyber toolbox cioè l'Unione europea preferisce avere una derisking policy specie nei confronti della Cina perché non ci dobbiamo dimenticare che questi attori statuali questi threat actors queste minacce che vengono da diversi stati la reazione certamente non può essere cinetica bisogna evitare un escalation proprio anche memory di quello che sta accadendo attualmente sul territorio europeo e quindi la bussola strategica che è stata adottata dall'Unione europea impone un ruolo fondamentale nella della diplomazia e anche appunto nella diplomazia cibernetica e poi un profilo che a me è interessato moltissimo per la passione che ci accomuna è il potenziamento dell'intelligence europea gli stati europei sono molto gelosi della loro sovranità infatti il percorso che ha fatto l'Unione europea in tutti questi anni partendo dal 1951 57 quindi come unione economica politica insomma un po' lontana perché poi è stato bocciato la costituzione per l'Europa nel 2014 però l'intelligence rappresenta uno snodo centrale senza l'attività di intelligence specie nel cyberspazio è impossibile colpire gli interessi di questi grossi gruppi criminali che ormai hanno un business model a sé stante parlo ovviamente nell'ambito cyber costituito da 300 400 persone che lavorano e che quindi offrono questi servizi illeciti sulle loro piattaforme digitali a disposizione della criminalità organizzata e non solo tanto è vero che la federazione russa nella Duma si sta discutendo dell'adozione di una legge che riconosca l'immunità dalla giurisdizione penale ai gruppi criminali cyber che difendono gli interessi ecco russi ecco io ho preferito fare un quadro di domande più ampio anche perché il libro dà molti spunti di riflessione veramente a 360 gradi posso dire che non non lo dico ovviamente per piageria ma attualmente nel panorama sia nazionale che internazionale è difficile trovare un testo che coniughi tutti questi profili e che quindi dia anche delle soluzioni perché attenzione secondo me l'aria che si respira nell'Unione Europea we are not hopers cioè noi non possiamo essere soltanto persone che sperano quello certamente sì we should be doers cioè noi dobbiamo fare concretamente qualcosa e quindi il libro si inserisce proprio in questo contesto grazie grazie Anita proverò a rispondere allora io credo che innanzitutto proverò a rispondere alle tue domande in maniera analitica sperando di essermene segnate tutte e ti ringrazio per gli stimoli che hai dato allora noi ci troviamo di fronte a una sfida concettuale per affrontare la quale occorre in qualche modo andare un po' alle strutture originarie che presiedono la formazione di questi concetti siamo in una situazione nella quale la macchina non funziona bene il meccanico arriva e dice che non ha la soluzione non capisce qual è il problema allora bisogna chiamare l'ingegnere per capire originariamente qual è il problema della macchina perché è anteriore diciamo al problema che il meccanico può intravedere l'ingegnere prova a ricostruire tutto il difetto di fabbrica ma ancora non riesce a capire le origini e a quel punto bisogna andare addirittura al matematico che ha fatto i calcoli per la costruzione della macchina questo è il problema di fronte al quale noi ci troviamo e che è piuttosto imbarazzante perché ci a mio avviso mette un po' in difficoltà i giuristi europei che sono stati per molto tempo abituati a trattare il diritto come un dato positivo e quindi come qualcosa che tu tratti tratti come già esistente come oggetto della tua considerazione come la norma dopodiché quando questo orizzonte è stato diciamo così quando ci si è resi conto che questo oggetto non era più così solido così strutturato così chiaro e ci si è resi conto di questo in maniera anche drammatica con conseguenze drammatiche durante gli anni 30 in Germania in Austria dove i massimi giuristi si sono posti a questo problema della dissoluzione dell'oggetto della loro attenzione questo poi peraltro per voi internazionalisti è più familiare come problema peraltro direi che è quasi originario ma per esempio per i costituzionalisti è un po' più imbarazzati dopodiché poi dopo successivamente c'è stata una sorta di schizofrenia semplifico brutalmente cioè da un lato come dire ci si è concentrati puramente sulle procedure per esempio sugli aspetti procedurali quindi anche in questo caso con un atto di fede nella oggettività di quello di cui si è e dall'altra parte invece si è cominciare a sognare di un ritorno al diritto naturale e così via e ora noi ci troviamo purtroppo avere a che fare con la struttura no? su cui tutto questo è cresciuto e la tentazione più ricorrente che io vedo tra i colleghi è quella a mi si perdoni l'espresso di buttarla in bacca cioè dire vabbè tanto è tutto molto ormai relativo e tutto mentre invece quello che si bisognerebbe fare è cercare di intanto un atto di fede di nuovo no? nei fondamenti della nostra civiltà giuridica occidentale e cercare di capire come ricostruire dico questo perché ha a che fare con la risposta successiva come ricostruire come ricostruire giuridicamente e concettualmente questa situazione così difficile e il caso della guerra e della pace è un caso classico perché perché tu facevi prima l'esempio dell'attacco cyber no? allora la gene allora la genesi dell'attacco cyber comincia in una sorta no? sappiamo brodo primordiale nel quale è molto difficile spesso addirittura nel gaming online può cominciare la genesi la narrazione in cui è molto difficile incontrare una chiara distinzione tra intenti offensivi intenti ludici intenti di simulazione cioè e viene in una in una sorta di brodo primordiale dove è solo un approccio olistico riesce in qualche misura a capire che c'è sta avvenendo fuori una creatura infernale che sta per diventare un nemico però è molto complesso e intervenire in quella fase genetica può comportare per esempio la messa in discussione di alcuni presupposti del nostro modo della cultura occidentale per esempio la distinzione e la sfera della privacy per esempio la distinzione tra attacco e difesa per esempio la libertà di opinione e come si fa a combattere la influenza concreta che hanno alcuni attori diciamo del fronte antioccidentale senza muoversi proprio dentro la regione estremamente delicata dei diritti fondamentali cioè fare la distinzione a quel punto diventa un'operazione di chirurgia complicatissima e quindi questa è una sfida sicuramente importante cioè il primo atto da fare è sapere che c'è la soluzione cioè che non è un atto di fede irrazionale è una adesione a una postura epistemico originaria nella quale ci dice che la sola rappresentazione del problema ma il fatto stesso dell'individuazione del problema contiene già in sé la possibilità di una soluzione perché è da questo che nasce un po' la nostra civiltà quindi quello sicuramente è un grosso problema certamente uno dei fronti importanti è l'in trattino formazione intesa anche come formazione qua è molto facile cadere nella critica cioè nella propaganda ideologica ma è ovvio per esempio che un mito come quello del tramonto dell'occidente è una sorta di matrice concettuale che alimenta una serie di narrazioni che poi si traducono concretamente lo vede in alcune forme di radicalismo individuale o diffuso diventano dei brand intorno ai quali poi si formano dei consensi e in alcuni casi consensi e adesioni molto consapevoli in altri casi quasi consapevoli è molto difficile soprattutto poi quando ti trovi a che fare con culture e principi ordinatori li chiamo così di natura comunitaristica come può essere di alcune culture dove è molto difficile individuare il confine tra la convinzione la fede l'elaborazione intellettuale e dentro questo brodo di cultura poi si forma concretamente l'attacco che poi riemergendo a un livello superiore diventa attacco vero ma la cui genesi come dire è molto molto indeterminata quindi tu difficilmente riesci ad applicare per esempio il paradigma alla base dell'articolo 11 della costituzione italiana è newtoniano cioè tu distingui causa ed effetto esterno interno no? e quindi tu dici allora l'attacco è questo io posso poi aderisco ovviamente poi c'è la seconda parte lo sappiamo che ci spinge a cooperare per il bene dell'umanità però insomma è difficile applicare questa dicotomia esterno interno che affonda le sue radici storiche giuridiche dentro diciamo quello che noi chiamiamo la cultura vestita faliana ma che ha anche degli aspetti teoretici importanti tutto lo sviluppo della fisica moderna causa affetto esterno interno individuo io altro il punto è che i giuristi continuano a ragionare dentro quell'orizzonte mentre il mondo ragiona secondo altre logiche di cui poi la tentazione di dire vabbè è tutto relativo siamo la fassi logic il diritto è finito io non penso che sia così allora quali armi certamente l'arma culturale è importantissima perché la cultura la formazione la decostruzione di questo paradigma del mito del per esempio del tracollo del tramonto dell'occidente una delle cose che ho cercato di fare è dimostrare la genesi di questo meccanismo mentale che a volte noi applichiamo autisticamente senza rendercene conto tanti tutti siamo portati ad applicare non ci rendiamo conti di applicare in realtà stiamo applicando un meccanismo e ho cercato di dimostrare che questo meccanismo che stiamo applicando ha un'origine storica molto precisa e affonda le sue radici in una truffa filosofica in buona sostanza un'operazione fatta negli anni c'era anche prima ma diciamo quello che oggi noi facciamo applicare il paradigma di Spengler che è una truffa teoretica con degli errori proprio logici al proprio interno e quindi sul piano culturale certo il confine tra una politica di contrasto a questo modo di considerare le cose e una politica di indottrinamento ideologico pro occidentale pro europeo è veramente multolabile ma è multolabile anche il confine che separa diciamo così la propaganda legittima e l'opinione legittima dall'attacco concreto quindi l'ibridità l'ibridità della nuova guerra riguarda proprio questo cioè sappiamo che Hubris in greco stava ad indicare per l'appunto la sfida agli dei la tracotanza poi questo termine viene successivamente utilizzato col progettile degli studi naturali naturalistici e politologici in Grecia per le procedure tassonomiche tanto è vero perché questo libro nasce nel mondo del diritto comparato perché la tassonomia cioè la classificazione è la prima vittima di questa sfida ma ecco quello che si cerca di dire qui è che non è vero che il problema non può questi problemi non possono essere risolti restando all'interno della cultura giuridico occidentale naturalmente ripetere qui perché è piuttosto complicato ma il libro è sostanzialmente improntato a questo e quali strumenti ci ha allora certamente ecco andiamo su un aspetto concreto che tu hai detto la difesa dell'Europa se noi ci muoviamo all'interno della sintassi di funzionamento dell'Unione Europea è impossibile costruire una difesa europea è una sfida europea sarebbe come voler costruire una circonferenza con un insieme di rette sempre più piccole bisogna fare un salto di qualità come fece Leibniz o Newton poi lì la lotta non mi ricordo chi ha vinto ha vinto Leibniz no ha vinto Newton perché essendo d'oltre mani che era più furbo cioè fare un salto di qualità come abbiamo come è stato risolto quel problema è stato risolto con un nuovo concetto matematico e così via cioè la sintassi operativa cioè tu sommando se rimani dentro quella logica non produrrai mai la difesa europea non la può non ce l'ha proprio perché la logica porta sempre la sintassi di quel sistema a privilegiare quello scarto minimo quell'elemento marginale che ti blocca la politicizzazione dello spazio europeo perché è nel suo codice genetico questo noi lo sappiamo ed è inutile che stiamo qui a fare anche la bussola strategica è una cosa bellissima stupenda si parla anche di intelligence di cyber security però è sempre un accavellarsi vedi di programmi eccetera difficilmente si riesce a sciogliere il nodo della sovranità cosa sta accadendo invece sta accadendo che si stanno formando dei fatti politici a livello informale delle masse gravitazionali a livello informale che rispondono all'esigenza concreta per esempio l'accordo di Acquisgrana l'accordo del Quirinale la stessa la stessa la stessa unione per la difesa europea dell'Europa del Nord che è molto asimmetrica rispetto alle logiche sia dell'Unione Europea sia della Nato è asimmetrica perché c'è tutti e due gli elementi senza però arrivare a una sua sintesi quindi fatti scelte politiche un altro esempio che mi viene in mente me lo fa venire qui in mente il collega Mantici seduto a fianco a me è che dimenticavamo di dire lo sostituisce appunto il collega Pisic anche nell'intelligence i fatti precedono per esempio il club di Berna è un fatto un confronto concreto tra operatori peraltro non limitare l'ambito europeo dell'Unione sono fatti decisioni politiche intorno alle quali poi occorre fare un lavoro ricostruttivo sotto il profilo giuridico formale in questo senso io propongo la riscoperta di un ruolo del giurista nel Medioevo cioè la messa a sistema e la creazione di un punto di irreversibilità di fronte a scelte politiche coraggiosi quindi non noi siamo secondo me si perde tanto tempo tra i giuristi a cercare di elaborare soluzioni no il vero ruolo è quello come nella più nobile tradizione della giustpublicistica del Medioevo cioè la messa a sistema la messa a sistema la razione la ricostruzione giuridica di fatti politici a qui sgrana qui rinale è su quello costruire il concetto di difesa europea quindi questa è una delle strade l'altra appunto e quindi qui è un ruolo fondamentale secondo me del diritto dei giuristi europei e l'altro è quello di correre il rischio della propaganda ideologica sapendo che abbiamo però anche gli strumenti per contrastarlo perché grazie a Dio come dire è vero che c'è un gap esponenziale tra tecnica e sviluppo della tecnica e diritto che mette in crisi anche le culture occidentali la cultura dell'occidente perché non riusciamo per esempio il problema della privacy rispetto alla sicurezza però è pur vero che questo gap abbiamo imparato ad affrontarlo con ad esempio la divisione dei poteri il controllo dell'opinione pubblica che restino comunque dei contrapesi che non funzionano in altri sistemi i quali non a caso stanno cominciando a manifestare un po' di derive entropiche io non lo so se ho risposto ma penso di essermi preso troppo tempo ecco perché mi sto fermando ma non so se ho risposto però ecco la chiave che volevo dare è anche nel ruolo del giurista continuiamo nell'intervista è il momento del dottor Severa salve al quale diamo la parola grazie spero si senta no devi cliccare forse così si sente adesso perfetto allora grazie a tutti innanzitutto vorrei ringraziarvi per la bella opportunità che mi date questa mattina di sedere a un tavolo così importante con personalità così importanti in un'università che non è la mia università ma che sto sempre di più apprezzando soprattutto per gli studi e per gli indirizzi di studi che il professor Sbaelò dà alla sua cattedra e per le tematiche così attuali così interessanti che sempre riesce a far emergere nel suo lavoro questo libro questo libro in qualche modo veramente utile al dibattito giuridico che in questo momento avviene nell'accademia italiana soprattutto legato all'idea che le scienze giuspubblicistiche insomma sono in qualche modo in crisi in una crisi esistenziale la potremmo definire così nella difficoltà cioè di comprendere qual è il ruolo ruolo in un mondo diverso in quello che Ciro Sbello chiama bebelarchia cioè in un mondo non più fondato su una gerarchia di rapporti tra sovranità ma in un mondo di pluralità di sovranità di pluralità di poteri che tra loro appunto cercano di ordinarsi e di mettersi in rapporto userò un'immagine molto bella di Beniamino Caravita un condominio di sovranità in cui bisogna trovare qualcuno un amministratore qualcuno che dia una direzione al tutto ecco siamo in questo mondo così difficile in cui appunto i giuspubblicisti non riescono ad orientarsi soprattutto per un motivo perché i nostri studi sono sempre stati legati all'idea dello Stato lo Stato Nazione lo Stato prima orlandiano e poi insomma già in crisi ai tempi di Romano qualcuno dice in crisi anche oggi anche se c'è una linea di pensiero che dice che in realtà gli Stati Nazionali ancora oggi rappresentino l'unità minima di questi rapporti tra sovranità e in qualche modo devono farsi valere in questo ma sicuramente è una sovranità quella degli Stati Nazionali oggi messa a dura prova addirittura addirittura da soggetti privati che in qualche modo esercitano una sovranità giuridica propria in privato assolutamente sganciata da qualsiasi tipo di controllo che possa che possa limitarla o ordinarla o disciplinarla perché siamo arrivati a questo punto ecco questo libro ci dice questo recuperando quella visione severiniana che è veramente per il giurista di oggi diventa fondamentale essenziale perché fa comprendere appunto l'arche l'origine fondamentale da cui parte il problema da cui in qualche modo è originata questa nostra situazione severino in sostanza dice che il mondo occidentale è un mondo di fantasmi uso questa espressione che è un'espressione di Massimo Donat ha scritto un libro uscito pochi giorni fa tra l'altro su severino proprio e nella prefazione utilizza questa immagine un mondo di fantasmi perché da Parmenide in poi la nostra visione delle cose in occidente si è basata sull'idea della separazione dividere le cose l'applicazione dell'aristotelico principio di non contraddizione se A è uguale a B e B è uguale a C A sarà uguale a C ecco la sapienza greca partiva da un presupposto completamente diverso cioè che queste tre cose tre elementi A B e C che noi separiamo sono in realtà la stessa cosa partecipano dell'unica natura Giovanni Sessa in un libro uscito da poco tempo parla appunto identifica questo modello nel mito di Orfeo in quell'Orfeo che aveva questa voce stupenda e che viene privato della testa da alcuni amanti che lui aveva rifiutato e questa testa gettata nel fiume comincia a cantare la natura intorno a sé si scioglie diventa un'unica sostanza in quel canto di Orfeo c'è appunto il ritrovo di questa fiusis come partecipazione completa ecco l'Occidente è tutto il contrario dice Severino l'Occidente si basa sull'idea che noi separiamo le cose separiamo le cose dalla loro sostanza e questa separazione che cosa comporta? Comporta la secolarizzazione comporta l'idea che le cose sono strumentali a un fine non legate al loro essere ed essendo in movimento in qualche modo divengono autonome ecco la tecnica da dove viene fuori qual è il problema della tecnica però? che essendo strumento può essere utilizzata per finalità differenti il problema del diritto oggi è questo di essere inteso solo come tecnica non come libertà non come autonomia dal potere ma come elemento strumento del potere stesso ciò che veramente distrugge il ruolo del giurista è questa idea che il diritto debba semplicemente essere una risposta alle esigenze del potere contingente non invece ad una costruzione più ampia e soprattutto libera autonoma adesso il professore faceva riferimento alla tradizione giuridica medievale c'è un bellissimo libro di Paolo Grossi prima lezione di diritto in cui Grossi proprio dice questo dice guardate la tradizione giuridica occidentale nasce dall'idea che i giuristi passando nella interpretazione del corpus giustinianeo creano una loro libertà di ragionamento che è totalmente autonoma è solo ragione pura che si sostanzia in questa libertà in questa autonomia dal potere che quindi limita il potere che quindi interviene nel potere qual è allora la questione la questione è che a un certo punto arriviamo agli estremi di questa secolarizzazione al pluralismo al pluralismo che oggi vediamo e alla difficoltà di ricostruire lo stato e le istituzioni intorno a questo pluralismo e qui il professore richiama la teogonia del costituzionalismo moderno il rapporto da Schmidt e Kelsen Schmidt dice costruiamo un catecon qualcosa che può resistere a questo piano inclinato a questo destino della tecnica e Kelsen invece dice no andiamo fino in fondo veramente togliamo la scienza giuridica trasformiamo la impura scienza del diritto cioè togliamo qualsiasi legame con la sostanza trasformiamolo in puro strumento e cerchiamo attraverso di questo di ricostruire una nuova libertà una nuova libertà che il professore fa passare attraverso la politica ma intesa come non tanto credo io almeno nell'interpretazione che ho dato nel senso schmittiano del termine cioè politica come forma di assimilazione della comunità di annullamento del pluralismo nel politico è l'esigenza di annullare tutte le differenze quanto nel politico credo come mediazione come elemento dinamico e di rapporti la cosa bella di questo libro è che questa costruzione teorica poi trova una sua realtà realizzazione nell'Europa l'Europa è un po' il compendio di tutto questo è un po' come dire il campo su cui possiamo verificare con mano quali sono i problemi che questa situazione che Severino così bene ci mostra poi sta portando e quali sono i problemi che sta portando Europa della tecnica o Europa della politica si discute tanto di questo la discussione per esempio nel mondo del diritto costituzionale oggi è molto legata al ruolo del PNRR si dice questo sia un piano non totalmente tecnico perché esprimerebbe un indirizzo politico in qualche modo congelerebbe l'indirizzo politico imporrebbe ai singoli stati degli obiettivi da seguire e quindi si sostituirebbe all'indirizzo politico di maggioranza che invece il Parlamento dovrebbe esprimere o comunque la compagine governativa ci sono invece c'è una linea di pensiero che parla invece di pura tecnica che cerca di far valere ancora l'elemento nazionale dicendo guardate che sono indicazioni tecniche di allocazione delle risorse un modello di allocazione delle risorse che però non influisce sull'indirizzo politico perché la sostanza di quell'allocazione rimane comunque in capo agli stati nazionali questo è un po' l'esempio del problema europeo è la dinamica tra un'istanza centrale che vuole assimilare che vuole tenere insieme e un'istanza nazionale che vuole resistere e che non trova strumenti per resistere in questo è molto interessante osservare quello che sta succedendo oggi con la Polonia con i paesi del blocco orientale entrati nell'Unione Europea tra il 2004 e il 2007 e che con difficoltà oggi riescono a inserirsi in quegli standard europei legati all'articolo 2 dei trattati cioè al contesto valoriale dell'Unione c'è stata la sentenza sulla Polonia a inizio giugno quella sentenza dice appunto che quegli stati hanno un obbligo di conformarsi all'articolo 2 perché da questo deriva la loro partecipazione all'Unione Europea e la deriva deriva però un obbligo di conformazione non a come loro intendono l'articolo 2 ma come l'articolo 2 è inteso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e questo è un tema forte cioè l'assimilazione il modello di assimilazione si basa sull'idea che c'è un'istanza centrale voi dovete adattarvi senza pensare che quei paesi forse hanno bisogno di tempo che quei paesi forse non erano pronti ad entrare c'era Caravita che su questo diceva sempre che c'era una difficoltà proprio politica e che noi eravamo stati portati ad assimilare quei paesi perché avevamo un debito storico nei loro confronti l'idea di averli lasciati nel blocco orientale ecco quindi c'è una dinamica il professore richiama nel libro Habermas e questo credo che sia veramente uno spunto importante soprattutto per gli studi attuali che tentano di leggere il tono costituzionale della costruzione europea come deve avvenire quella integrazione nel rispetto delle istanze nazionali come dice l'articolo 4.2 delle identità nazionali scelte dai singoli paesi o bisogna creare un movimento di assimiliazione che sia sempre più forte sempre più ampio ma che può portare al conflitto che può portare a una degenerazione conflittuale come sta accadendo perché in qualche modo questo rafforza determinati partiti politici forze politiche che invece a quell'assimilazione si stanno fortemente opponendo tutto questo per fare posso compendiarli in due domande essenziali innanzitutto le chiedo qual è il profilo del vero giurista severiniano come deve essere il giurista che oggi affronta questi problemi due sull'Europa qual è secondo Dei il miglior modello di assimilazione che oggi potrebbe prospettarsi a trattati invariati direi quindi senza poi agire sul modello costruito oggi che sarebbe difficile sicuramente ritoccare grazie grazie ok vado vai direttamente vado direttamente allora proverò allora adesso provo a rispondere analiticamente che poi non so se forse prima non ho mantenuto la promessa di essere analitico nella risposta ma comunque intanto ringrazio per il riferimento a Beniamino Carevita che è stato nostro ospite al primo convegno sulla difesa europea ha incoraggiato incoraggio a suo tempo la nascita nel nostro centro studi su geopolitica e diritto comparato ed è una persona che noi abbiamo avuto veramente l'onore di ospitare e il piacere di ospitare allora comincio facendo riferimento all'ultima questione giurista saveriniano forse ecco qui allora è opportuno precisare anche come io cerco di collogarmi in questo ambito e cosa poi mi ha portato a muovermi dentro quell'orizzonte teoretico ma anche ad allontanarmi dalla scuola perché quello che mi allontana dalla scuola è da una parte della scuola è citato autorevole insomma conosco anche Massimo Donagge quello che mi ha allontanato è proprio questo cioè la rappresentazione rappresentazione di questa follia della dialet del principio di non contraddizione e della separazione la rappresentazione di ciò come di un qualche cosa su cui sia possibile in qualche misura esercitare una sorta di ermeneutica ecco io contesto proprio radicalmente questo è una contestazione teoretica radicale sulla postura rispetto al problema e questo naturalmente per carità devo fare conti con una gran parte delle cose di Severino su questo ma mi allontano un po' dagli sviluppi cioè proprio il discorso della postura che negli aspetti meno colti assume il tono moralistico della critica dell'Occidente del nichilismo che è una cosa eccetera nei toni e quindi però non è quello il caso naturalmente non è degli autori che abbiamo citato ma è la possibilità di una ricostruzione di questo dato A, B, C eccetera come di un dato rispetto al quale si possa esercitare un atto ermeneutico questa è una contestazione logica originaria mia mentre invece tendo cerco insomma di ricostruire questa problematica dentro un ambito di di consapevolezza dolorosa in un certo qual senso di inevitabilità ma anche di poi una parte di Severino va verso quella direzione secondo me Dio prima ecco Pino ha usato una bella parola ontologia dell'ottimismo in un certo senso ecco io e quindi la possibilità di vivere quel momento della follia della scissione eccetera come un qualche cosa che si possa a si possa riportare dentro una attività ermeneutica di tipo tradizionale almeno quindi questo è mentre invece c'è secondo me la operazione completamente diversa e di qui la mia grande ammirazione per Kelsen perché Kelsen si fa carico di questa aporia e la pratica e la coltiva fino a trovare anche in essa proprio il nocciolo diciamo dei contrappesi rispetto alla sua violenza originaria ecco di qui la mia grande ammirazione e di qui la mia considerazione al ruolo politico del giurista ruolo politico del giurista che non è certamente quello di come è stato fatto anche in Italia è successo questo a un certo punto in poi dopo la grande stagione degli anni 40 50 che sono diventati non parlo ovviamente dei colleghi internazionalisti che ci hanno avuto una storia completamente diversa grazie a loro da una parte c'erano coloro i quali erano semplicemente i consulenti gli anni 70 i consulenti sono consulenti tecnici tecnici consulenti cioè mi serve questa riforma fare questa riforma non voglio fare nomi ma stiamo parlando di vertici cioè mi serve questa soluzione mi serve poter controllare meglio il consiglio benissimo benissimo allora studiamo questo sistema ma basta ma no dall'altro poi invece il ruolo del giurista e dell'utopista dissidente salottiere cioè anche lì sono due facce della stessa medaglia mentre invece ecco perché mi rifaceva grazie per riferimento a Grossi perché ce l'avevo sulla punta della lingua cioè la funzione ermeneutica costruttiva di fronte al dato politico e interattiva del giurista quindi anche farsi carico delle situazioni e non passare dal consulente all'utopista salottiero queste due figure purtroppo hanno fatto anche la fortuna o accademica o carreristica di alcuni però è obiettivamente c'è stato uno sfascio dal punto di vista del ruolo e dell'autorevolezza dei giuristi in questo paese è chiarito questo punto e anche qui rispetto alla alle logiche della tecnica nel contesto europeo e alla prevalenza della tecnica io lì ecco è bene esercitare la critica è bene anche guardarsi poi da un atteggiamento che scivoli semplicemente nello scandalo e nella sorpresa cioè la tecnica è inevitabile elemento tecnico l'abbiamo sperimentato tutto ecco io in una fase della mia vita ho fatto il consulente giuridico del primo tipo ma era come si dice che sa da fare campan della serie si dice a Napoli e a un certo punto mi è stato chiesto di costruire tutto un percorso verso il fiscal compact dell'articolo 81 allora era chiaro che noi stavamo facendo una forzatura bestiale perché noi stavamo inserendo nel sistema un principio prima inesistente o non in quella formula di fatto una mutazione costituzionale rispettando solo formalmente tutto l'iter del 138 ma non nella sostanza cioè lo spirito dell'articolo 138 di fatto noi ci siamo fatti imporre secondo me bene che sia stato fatto però l'abbiamo sperimentato e io confesso in quella fase purtroppo sono stato tranquilli che ci ha lavorato ma è anche lì che mi sono reso conto che il giurista non può fare questo questo è un problema cioè quando ci hanno imposto il pareggio del bilancio praticamente per capirci però io trovo due atteggiamenti sbagliati qua da un lato appunto quello tecnicistico che può essere giustificato da esigenze pratiche della vita e qui tanto di cappello però non è un lavoro da giurista in questo caso appunto è un lavoro tecnico da consulente dall'altro coloro i quali alzano scandalizzato le braccia e si stracciano le vesti contro il triunfo della tecnica signori la tecnica nel destino della tecnica ci sta la separazione dei poteri nel destino della tecnica ci sta il primato dell'individuo della persona nel destino della tecnica c'è la individuazione del limite del potere come fonte di legittimità dell'esercizio dello stesso Kant quindi e poi naturalmente qui io mi distacco un po' appunto da quello che è una parte della gloriosa diciamo scuola severiniana perché appunto mi trattengo dall'esercitare rispetto a questo una ermeneutica come se fosse possibile avvolgerla dentro la concettualizzazione ma questo è un discorso quindi secondo me la tecnica va appunto questa prevalere della tecnica in Europa non va demonizzato non va neanche subito ma va riscoperto questo ruolo dialettico e come ad esempio rispetto ai dati di fatto che facevo prima e quindi quello che io intendo per giurista severiniano paradossalmente è Kelsen cioè è il giurista che si rende conto delle aporie ma dentro questa aporia ti ricostruisce la civiltà giuridica nella sempre con un elemento di scepsi rispetto alla possibilità di una rappresentazione globale e questo elemento secondo me è originario cioè originario della cultura occidentale ma qui non per capirci qui portiamo una citazione di Churchill che in realtà è una ha un modè non lasciamo perdere l'occasione di una crisi ma la struttura concettuale di questa citazione di questa espressione in Churchill che conosce bene i conservatori liberali inglesi sa che loro sono tutti dei grandi conoscitori dei classici greci conosco bene molto molto bene i classici greci è una rielaborazione ha la medesima struttura concettuale di una frase logica cioè se noi la vogliamo formalizzare la medesima struttura logica di un'altra frase famosa di Churchill che è la democrazia è il peggiore dei sistemi possibili eccettuali tutti gli altri che è il concetto di limite che attenzione è Platone perché questa è una frase di Platone rielaborata è anche di Kant cioè il limite non più come limitazione ma come fondamento questa è una cosa importante è il concetto anche di integrazione in questo senso chi integra chi secondo me bisogna spiegarsi su questo l'integrazione non assimilazione e non può essere in questo senso vista come un'adesione incondizionata ma c'è una la formazione di nuclei diciamo decisionali che hanno poi una forza attrattiva sugli altri in questo senso mi ha sempre convinto devo dire poi qua avevamo un battibecco io e Beniamino la tesi di Fabbrini la tesi di Fabbrini avevamo un battibecco proprio a questo tavolo sulla tesi di Fabbrini che a me convinceva molto e lui non l'apprezzava e lui diceva se poi la applichiamo alla difesa la Francia ci sottomette ma io dissi vivo la France Beniamino allora quindi integrazione progressiva cioè Europa ha più velocità quindi lasciare questo schema cartesiano assimilatorio ma aprirsi a una matematica un po' più complessa sempre matematica è ma è meno semplicistica va bene lasciatemi usare un approccio topologico lo potremmo definire così non so se ho detto una bestialità guardo gli scienziati in sala un approccio topologico quindi integrazione a più livelli dinamica a più livelli progressiva con nuclei forti che hanno poi una forza attrattiva sugli altri in questo accordi informali accordi industriali accordi asimmetrici come quello sulla difesa europea ma anche riapertura del fronte Regno Unito perché in questo ci sta anche il Regno Unito noi vediamo ad esempio quello che sta accadendo adesso Sunia che sta vuole fare del Regno Unito la capitale dell'intelligenza artificiale però non la può fare al 100% perché sul suo territorio non riesce ad avere dei cluster abbastanza grossi come quelli di Amazon eccetera quindi dovrebbe usare quelli in territorio degli Stati Uniti soltanto che e soprattutto i dati sanitari che fanno gula soltanto che il Regno Unito non si fida però si potrebbe fidare dell'Europa dove questi cluster ci sono peraltro perché lì non li metto cioè è più complicato anche perché hanno un consumo notevole e per esempio sul fronte della cyber sicuramente si potrebbe forse riaprire un discorso con l'Unione no? cioè con il Regno Unito e anche la Brexit diventa a questo punto potrebbe quasi diventare nel giro di qualche anno un reperto archeologico sta lì ma di fatto viene superato peraltro corrisponderebbe credo alla maggioranza della volontà dei britannici quindi più velocità asimmetrie fiducia nel cuore politico dell'idea nel cuore politico del progetto cioè che non l'ho detto perché l'ho vascondato cioè questo pianeta ha bisogno dell'Europa ha bisogno dell'Europa e non c'è bisogno di dire altro e quindi penso forse di avere anche anticipato detto quella risposta non lo so forse non ho risposto o quantomeno ho cercato di rispondere alla seconda domanda io mi taccio qua anche perché non vorrei rubare troppo tempo il dottor Bisogno mi ha detto sì stai andando troppo oltre i tempi c'è ragione non scherzavo ma è vero e quindi mi taccio e appunto ridò la parola alla presidenza per le attese conclusioni grazie introducendo questo incontro il professor Pisicchio ha parlato di molta carne al fuoco e di pietanze molto succulente i temi che sono stati sollevati sono molteplici e quindi sono stati affrontati dal punto di vista politico della scienza politica della filosofia della filosofia del diritto e del diritto comparato quindi abbiamo volato altissimo ci sarebbero molte cose mi sono venute molte cose in mente ma io non intervengo volutamente nel dibattito perché andremo fuori tempo e fuori tema per cui mi sento soltanto di fare una riflessione che la frase riferita alla frase di Cerci non sprecare mai una buona crisi temo che la guerra in Ucraina vista come crisi sia l'occasione per gli Stati Uniti per rientrare in Europa da padroni da amministratori del condominio europeo e temo quindi che il risultato finale diciamo fra fra qualche anno il risultato finale di questa crisi sarà che è l'Europa che ha sprecato l'occasione e che la difesa europea come la concepiamo noi si allontani enormemente dal nostro orizzonte degli eventi e finisco qua non vi dimenticate che nel dicembre del 2021 Macron disse la Nato è un morto che cammina quello è stato il momento politicamente più vicino a un progetto concreto di difesa europea provate a ridirlo oggi la Nato è un morto che cammina la Nato con l'ingresso della Svezia diventerà un condominio con amministratore americano all'interno del quale al terzo quarto e quinto piano ci sarà l'Europa quale conoscevamo prima della guerra non dico altro perché se no non la finiamo ultimo lo so lo so e quindi do la parola al prefetto Frattasi con l'onere di concludere questa bella mattinata grazie allora innanzitutto inizio questo mio intervento conclusivo con i ringraziamenti al professore Sbailò per avermi invitato a questa presentazione di questo libro che ho avuto il piacere di avere tra le mani prima di questa giornata in una bozza per la verità ancora in occasione di un incontro che avemmo nel mio ufficio di direttore dell'agenzia nazionale per la cyber sicurezza era una circostanza nella quale è stata una circostanza nella quale abbiamo scoperto entrambi di essere dei lettori di Severino e dei ascoltatori del suo pensiero naturalmente in maniera molto più professionale anche per il ruolo che svolge nella società civile di accademico di docente il professor Sbailò il mio in una più modesta dimensione di curioso osservatore della letteratura filosofica del nostro tempo e però non si può non partire da una considerazione e cioè che il libro di Ciro Sbailò è un libro che mette al centro della sua riflessione che spazia come è stato detto su vari campi su vari ambiti è una riflessione impregnata del pensiero severiniano che è un pensiero che può riassumersi con una frase che può sembrare una blasfemia se rapportata al pensiero occidentale dominante e cioè la fede nel divenire cioè la fede nella trasformazione delle cose che porterà ma poi lo dirò alla fine la tecnica ad assumere un ruolo fondamentale quasi prevalente rispetto a tutte le altre forme del pensiero umano e della cognizione umana e cioè qual è questo pensiero dominante nell'opera severiniana l'eternità degli essenti cioè l'eternità del tutto l'eternità di ogni momento anche di questo come più volte diceva nelle sue lezio magistralis tenute spesso al festival della filosofia o in altre occasioni in cui è stato ospite fino alla fine fino alla fine e quindi un'affermazione che contrastava con il pensiero dominante che invece vede nel divenire nella trasformazione e anche poi nella affermazione del nichilismo come dato fondamentale fondativo del pensiero filosofico ormai corrente un qualcosa di effettivamente di stonico non si è mai visto nessun altro pensatore teoretico né in questo paese né in altri paesi che fondasse il proprio pensiero su questo fondamento appunto questo fin non adesso ma fin dalle sue prime riflessioni che risalgono ventottenne alla fine degli anni cinquanta quando pubblicò il suo primo non il suo primo ma insomma il suo più celebre studio e saggio poi rivisto negli anni successivi la struttura originaria nel pensiero severiniano che cosa domina tuttavia e questo lo dico in relazione al tema del libro l'Europa l'identità l'identità chiaramente lo capite che è un dato fondamentale nel pensiero severiniano perché se tutto è eterno e tutto non cambia e quindi non è il divenire cioè la trasformazione delle cose il dato centrale epistemico ma è invece l'apparire di ogni eterno nel susseguirsi di quello che Severino chiama nel suo linguaggio l'eterno apparire degli eterni cioè il susseguirsi degli eterni nella nella struttura fondamentale originaria e quindi non c'è distruzione ma c'è conservazione alla fine allora se noi pensiamo a questo è chiaro che l'identità è e resta il centro di questo pensiero l'identità è qualcosa che non si distrugge non può passare non c'è non c'è oltrepassamento si potrebbe dire in termini filosofici dell'identità l'identità è e resta l'essenza originaria di ogni essente ma ogni essente significa tutto significa anche l'Europa allora il tema è qual è l'identità dell'Europa e se l'identità dell'Europa seguendo il pensiero severiniano che echeggia nelle pagine di questo libro è immutata non è cambiata non cambia non potrà cambiare nella sua essenza originaria cerchiamo di ricostruirla questa identità cerchiamo di andare alla radice di questa identità perché questa identità nonostante noi vediamo tutti i giorni i fatti che accadono e che ci sembrano portare l'Europa una volta da una parte e una volta dall'altra come soggetto politico come soggetto economico e tuttavia questo cangiante apparire dei fatti che ogni giorno mutano la scena che sta davanti ai nostri occhi e quindi ci fanno portare ad avere quella fede nel divenire che è la follia che è indicata nel libro di Sbaidò la follia della concezione del pensiero occidentale della unte natura degli essenti e quindi del fatto che gli essenti a un certo punto cessano e vanno nel nulla vengono da nulla e vanno nel nulla espressione più volte ripetuta nel suo testo da Sbaidò ripetendo appunto questo asserto filosofico di Severino che nega questo apro un inciso poi mi direte quando devo chiudere il mio intervento conclusivo non è facile fare una sintesi di un dibattito così ricco che ha toccato tanti argomenti ci proverò seguendo un certo filo posso dire soltanto che delle fresche letture severiniane quella che oggi posso dire a questo momento mi ha colpito di più è quella che racchiude il libro che racchiude le lezioni alla Cafoscari di Venezia che non a caso si chiama l'identità della follia il titolo del libro è questo che racchiude le due i due termini fondamentali del pensiero severiniano identità e follia la follia è quella che ho detto cioè fede nell'occidente nel divenire ma c'è la prima l'identità che è ancora più importante fondamentale nel discorso severiniano a cui stavo accennando l'identità come qualcosa di originario che appartiene all'essente che non è destinata alla mortalità tutt'altro è eterna quindi connota quindi l'essente in ogni suo momento e allora se l'essente è anche l'Europa e qual è questa identità e se questa identità c'è come è possibile oggi ricostruirla chiaramente è un tema difficilissimo che sarei appunto un folle se potessi pensare di quindi assumerlo brevemente ma cercherò di darvi qualche sprazzo seguendo anche il libro e anche gli interventi per carità molto importanti che sono stati fatti da chi mi ha preceduto ecco allora innanzitutto l'Europa da che è nata come soggettività a sé stante è nata da che cosa è nata dalla guerra dalla necessità che i paesi che si erano combattuti spargendo sangue facendo centinaia di migliaia milioni di morti seminando lutti ovunque finalmente cooperasero tra di loro per dare una stabilità e qui anche veniamo a un altro tema severiniano lo tocco soltanto la stabilità noi ne parla con riferimento all'episteme cioè al fondamento conoscitivo del tutto l'episteme cioè è ciò che è ciò di che di fondativo è della nostra cultura occidentale e se è fondativo della nostra cultura occidentale può ben essere fondativo della nostra cultura europea che dell'occidente è il cuore e quindi quindi questo fondamento è appunto dell'Europa sta appunto nella pace nel desiderio di pace ma il desiderio di pace è un desiderio cioè è un'aspirazione un'aspirazione non può essere un progetto politico e il progetto politico deve passare per alcune cose e vorrei ricordare che l'Europa si fonda non solo sul trattato della comunità della realizzazione della comunità economica europea il cosiddetto MEC quando io studiavo da ragazzo l'Europa si parlava di MEC mercato economico europeo comune ma c'era anche un altro trattato fondamentale che qui con riguardo a questo discorso dell'identità e della pace trattato della cieca cioè il trattato che riguardava il carbone e l'acciaio e come è stato ricordato in un'altra tavola rotonda saccheggiate internet per queste cose andate sempre a vedere gli interventi dei grandi tavole dei grandi tavole rotonde dei grandi dibattiti in un dibattito che ancora è reperibile su internet che avvenne sul destino dell'Europa molti anni fa Severino presente dibattito a cui parteciparono Severino Cacciari Giuliano Amato Michele Ciliberto e Biagio De Giovanni cioè personalità del mondo intellettuale italiano e non solo italiano l'intervento che fu svolto da Giuliano Amato in quella occasione disse questo era trattato della cieca fondamentale nella costruzione del discorso della pace in Europa perché è come se i paesi dicessero guardate l'acciaio con il quale abbiamo costruito le basi per combatterci e per distruggerci reciprocamente dovrà da oggi in poi diventare uno strumento di unità nell'ambito dell'Europa cioè non ci dovremo più dividere non dovremo più arrivare alla guerra a far parlare le armi perché noi faremo un uso pacifico di queste risorse questo era il discorso principale che fu fatto e l'Europa si è concepita sempre ritorniamo al discorso identitario dell'identità come in questi 70-80 anni di vita come un soggetto che esporta la pace che esporta la democrazia che esporta la law law cioè che esporta i principi della democrazia partecipativa fondativi di una nuova era ma non per l'Europa per il mondo cioè si è posta come un soggetto guida del processo politico mondiale si è posta e naturalmente non è un percorso che ha una linearità cioè che vive in maniera piatta e si dispiega senza interruzioni e senza crisi un'altra parola che viene più volte evocata nel discorso severiniano e disbello ce ne sono state tante ne stiamo vivendo vivendo una adesso però qui è importante capire di fronte alle crisi come reagisce l'Europa se cioè recupera quella identità o la perde non potrebbe perderla direbbe severino perché non si perde non cessa non muore però l'apparire di questa di questa crisi porta anche all'apparire di questo sfregio a questa identità di questa perdita di coerenza di questa identità allora nelle ultime parole del nostro moderatore c'è stato e non posso non essere d'accordo con lui da questo punto di vista un bel richiamo alla perdita di centralità dell'Europa come soggetto politico nel confronto adesso tra Russia Federazione Russa e Ucraina lo stiamo vedendo in questi giorni una riacquisizione del ruolo della Nato rispetto all'Europa l'Europa come ce la possiamo spiegare e io credo che in qualche modo questa fragilità dell'Europa che appare appare ritorniamo al discorso severiniano appare è una fragilità che comunque ha in sé una radice ontologica scusate questo termine un po' aulico cioè nel destino di pace che l'Europa si è dato che naturalmente non può negare non riesce ad avere la forza di negare e quindi non riesce a proporsi come soggetto che la chiamata alle armi ha detto benissimo la dottoressa prima ma ci sono varie chiamate alle armi la chiamata alle armi può essere anche una chiamata alle armi della ragione una chiamata alle armi della pace non una chiamata alle armi come un invito al bellicismo a ritrovare le ragioni del bellicismo che invece abbiamo ripudiato 80 anni fa e che vorremmo continuare a ripudiare veramente se fosse possibile se fosse possibile purtroppo purtroppo la storia gli accadimenti ci mettono di fronte a delle scelte drammatiche però quella crisi quella debolezza quella fragilità a radici lunghe a radici lontane perché non si può dimenticare quell'identità pacifista dell'Europa non la possiamo anzi io direi il contrario mi verrebbe di pensare che dobbiamo sfruttare meglio quella identità valorizzarla quella identità e l'ha detto in qualche modo anche sbailò nelle ultime battute del suo intervento mi è sembrato di cogliere questo cioè la necessità che l'Europa non si disperda ma anzi si riesca a riproporre tenendo insieme ha parlato di Europa più velocità tenendo insieme le chiare esigenze che vengono dagli stati membri con quelle che invece comportano un'integrazione una necessità di condivisione e quindi la necessità che le sovranità nazionali restringano o ritengano di delimitare e di frenare il loro impulso naturale si potrebbe dire a riprendere a rialzare la testa si è detto da qualche parte e questo non è vero che l'ultimo periodo che stiamo vivendo del nostro tempo sia un tempo in cui la globalizzazione che sembrava inarrestabile questo processo abbia in qualche modo subito con la crisi pandemica e con la guerra con il conflitto russo-ucraino una battuta di arresto probabilmente diciamo di definitiva non dico definitiva ma insomma di compromissione totale della sua capacità di inarrestabile progresso a vantaggio di cosa a vantaggio degli stati nazionali delle sovranità nazionali che sull'onda delle crisi che si sono avvicendate in quest'ultimo tempo avrebbero ripreso avrebbero rialzato la testa ecco su questo non è proprio così e bisogna rifletterci perché che cosa noi oggi stiamo discutendo nel nostro paese ma se ne sta parlando anche in altri del modo con cui impiegare le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza e che cos'è il piano nazionale di ripresa e resilienza è appunto la risposta europea che si è data a una crisi e la risposta europea che si è data alla crisi piano nazionale di ripresa e resilienza lo dico per quei pochi o nessuno che non lo sa è il modo in cui noi abbiamo declinato un programma europeo che si chiama Next Generation EU va bene in cui l'Europa l'Europa ha preso l'iniziativa di approfittare della crisi e qui torniamo alla frase di Churchill che è un po' il sommario di questo evento di oggi ha approfittato della crisi per dire eh no ma diamoci da fare in una chiave solidaristica e in una chiave che guarda oggettivamente al futuro dell'umanità le missioni che sono iscritte in questo piano guardano tutte al futuro e guardano tutte a un futuro che è declinazione in termini moderni di un umanesimo nuovo la transizione al digitale la transizione al verde tanto per dirne due la trasformazione delle nostre città in smart city tanto per dirne un'altra perché e qui vengo a una espressione che fu molto ben usata dal nostro ex presidente del consiglio Mario Draghi che non a caso è un europeista convinto la ripresa dopo la pandemia quella che finalmente stiamo cominciando a vivere non è come riaccendere la luce quando c'è stato un black out di qualche ora ma è proprio una rinascita ma è proprio una rifondazione ma è proprio una ripartenza nel senso pieno e totale del termine cioè è un ripensamento e qui torniamo al tema filosofico che io da questo punto di vista sono molto severiniano cioè penso che la filosofia non sia quella cosa che ci insegnavano qualche becero collega di banco al liceo quella cosa senza la quale o con la quale si rimane tali e quale no la filosofia è la vera episteme come direbbe severino cioè il vero fondamento della conoscenza anche la tecnica anche la scienza secondo il pensiero severiniano sono ancille della filosofia che è il vero pensiero dell'uomo quindi mi torno un attimo quindi non è vero che l'unione europea alla fine l'unione europea è un pezzo della globalizzazione attenzione è un pezzo della globalizzazione rappresenta fin dagli esordi come un pezzo della globalizzazione cioè della universalizzazione dei diritti perché poi questo è se la vogliamo concepire in termini positivi universalizzazione dei diritti e l'ho detto molto bene Cassese qualche settimana fa forse un mese fa a Torino in una certa occasione mi pare che fosse anche lì un festival dell'economia se non sbaglio in cui ha parlato di globalizzazione verso sovranità nazionali certo il tema esiste che è anche qui un tema identitario perché le sovranità nazionali sono identità nazionali e quindi c'è un problema di reciproca interdipendenza di queste due identità anche qui voglio citare qualcuno che l'ha rimarcata bene in un recente suo scritto sovranità limitata sovranità limitata ne ha parlato credo Luciano Camp in questi termini recentemente se noi abbiamo stabilito con un voto del Parlamento è un tema molto critico se ne sta molto discutendo di portare il nostro contributo alle armi nella guerra in atto in qualche modo anche se indirettamente anche se con un appoggio diciamo esterno chiamiamolo così collaterale in qualche modo stiamo mettendo in discussione stiamo mettendo in questione il nostro articolo della Costituzione che dice che il nostro paese ripudia il ricorso alle armi e quindi qui vedete bene che c'è in qualche modo una cessione o un problema una tematizzazione del problema della cessione della sovranità nazionale versus o o a confronto al cospetto di un tema di sovranità europea di sovranità non più nazionale sovranazionale tra i tanti temi che qui sono stati evocati credo di avere già parlato abbastanza di avervi diciamolo abbastanza tediato ma non posso non chiudere infine con un riferimento alla cyber faccio il direttore dell'agenzia della cyber mi permetterete di dire qualcosa al riguardo l'Europa sta facendo tanto su questo e non possiamo non dirlo qui tra l'altro abbiamo un rappresentante dell'agenzia e credo che sappia meglio di me cosa sta facendo oggi ma forse voi non lo sapete e sarebbe il caso di rammentarlo anche qui vedete il tema della protezione cibernetica non era nato così come lo stiamo esponendo in questo momento era nato come la necessità è nato come la necessità di regolare un mercato la prima uno dei primi interventi la direttiva nessuno se non sbaglio è una direttiva che cerca di mettere nell'ambito di un mercato nuovo che si stava affacciando delle regole che valessero a disciplinare la concorrenza all'interno dello spazio europeo spazio pubblico europeo secondo dei principi che valessero a mettere in sicurezza certe esigenze ma era declinato ancora una volta in forma diciamo che originariamente ricorda appunto quelle radici a cui facevo prima riferimento nella nascita del soggetto europeo però che cosa è accaduto e che cosa sta accadendo che l'Europa sta prendendo mano a mano consapevolezza che non basta più quella dimensione i regolamenti che stanno prendendo forma il regolamento per esempio che adesso staranno negoziando alla fase del trilogo probabilmente stiamo staremo per arrivarci sulla solidarietà il cosiddetto solidarity act che è un regolamento che stanno in questo momento scrivendo a Bruxelles è un regolamento che e tocco qui un tema che è stato toccato da diversi altri interventi che mi hanno preceduto riguarda appunto il creare un network di solidarietà basato sulla solidarietà quindi basato sulla reciproca mutua assistenza un meccanismo che già conosce l'Europa io sono stato come è stato ricordato alla protezione civile ho fatto qui un corso su quello sulla gestione dell'emergenza e le gestioni dell'emergenza hanno un meccanismo europeo di solidarietà conoscono e applicano un meccanismo europeo di solidarietà di cui noi siamo stati attori nel senso doppio del termine lo abbiamo ricevuto e lo abbiamo prestato in tante emergenze di particolare violenza dal punto di vista della protezione dei beni delle vite umane della protezione civile e solidarity act che prenderà vita tra qualche tempo è proprio un meccanismo solidaristico che dà risposta all'esigenza di proteggere la superficie digitale dell'Europa dal pericolo di attacchi cibernetici da attori ostili che sono anche degli attori statuali prima la dottoressa faceva riferimento la dottoressa Larissa Sciacovelli come è stato ricordato Pugliese faceva riferimento alla postura che hanno aggressiva di alcuni attori statuali extra-UE ha fatto riferimento ovviamente alla Cina ha fatto riferimento alla Corea ha fatto riferimento all'Iran alla Russia naturalmente e quindi e noi lo sappiamo io stesso che sto a capo dell'agenzia so che i nostri siti istituzionali lo leggiamo sui giornali vengono attaccati ogni giorno da gruppi anonimi di hacker che però sono ideologicamente vicini e non solo ideologicamente perché poi nel momento in cui sferrano questo attacco sono anche materialmente e lo ha detto bene la dottoressa vicini e collaterali all'attore russo c'è poi un problema stato toccato in qualche modo di indeterminatezza della genesi dell'attacco e quindi praticamente di attribuzione dell'attacco di attribuzione dell'attacco e quindi significa anche di risposta controffensiva all'attacco si è parlato di guerra ibrida ma io qui scivolo su questi argomenti altrimenti da fare troppo lungo e vado all'ultimo dei temi che voglio trattare e che si riferisce appunto alla cyber con riguardo alla tecnica perché non c'è nulla che incarni nella maniera eponima come si potrebbe dire la tecnica come il cyber in questo momento non c'è nulla e questo potrei dire anche un tema molto severiniano perché vorrei se fosse presente ma non ho avuto mai il piacere di incrociarlo nella mia vita domanderei al professore ma come possiamo parlare ancora di identità nel mondo cyber è possibile parlare di identità di fronte a tante identità digitali di fronte allo scenario del metaverso per esempio dove l'identità ne creiamo un'altra di identità che non è più un'identità originaria ma è un'identità altra domande che resteranno ovviamente senza risposta e quindi è inutile tornarci qui possiamo però chiudere con un tema che sicuramente sarà il tema centrale ne stanno parlando già tutti quello dell'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale è come posso dire il futuro che è già qui perché noi già usiamo mezzi e strumenti lo sappiamo probabilmente non ce ne accorgiamo non ne abbiamo piena e completa consapevolezza strumenti di intelligenza artificiale qualcuno ricorda che c'è un dispositivo lo usa anche il mio nipote che ha tre anni che si chiama Alexia che è una lo userete anche voi immagino che è un dispositivo con il quale tu interloquisci normalmente come se fosse un essere umano e io mi chiedo sempre se il mio nipotino che ha tre anni quale concezione ha di questo dispositivo cioè lo umanizza in qualche modo penso di sì cioè lo considererà più o meno più o meno una 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 qualche un qualche avatar della madre o del padre e quindi ci sono usi pacifici e assolutamente deciti dell'intelligenza artificiale ma l'intelligenza artificiale ci può dare una grande mano d'aiuto anche anche negli usi pacifici anche nel respingere gli attacchi cibernetici attraverso l'analisi la tritta intelligence la tritta analisi cioè l'analisi della minaccia cibernetica attraverso strumenti di intelligenza artificiale e ci potrà dare straordinari sussidi nel campo della telemedicina nel campo delle scienze dure nel campo della salute del progresso della ricerca applicata e anche qui e chiudo davvero abbiamo una nuova centralità dell'Europa perché anche qui ha tra poco l'Europa produrrà un regolamento sulla intelligenza artificiale un regolamento sull'intelligenza artificiale che affronta uno dei temi più dedicati che si dibattono in questo ambito cioè l'uso etico dell'intelligenza artificiale la centralità dell'uomo rispetto allo sviluppo di questa tecnica per fare in modo che effettivamente si possa ancora sperare di non avere ancora non so per quanto non toccare con mano quello che paventava un po' nelle sue riflessioni Emanuele Severino quando temeva che la tecnica potesse veramente sfuggire di mano all'uomo e già un po' lo prefigurava prefigurava questo rischio quando come chi ne ha letto le sue pagine sa diceva che la tecnica è l'ultima incarnazione di questa follia del divenire perché perché quella che pensa di potersi riprodurre all'infinito senza avere nessuno scopo se non la propria potenza la propria volontà di potenza e prescindendo da ogni canone che ne possa imbrigliare questa volontà di potenza infinita ecco se noi riusciamo a evitare questa deriva utopica distopica scusate e riportare invece al centro dello sviluppo di queste nuove forme innovative di tecnologia il pensiero umano e quindi il pensiero umano la tradizione europea del pensiero umano e quindi la tradizione che fa fede nell'uomo e vede nella valorizzazione dell'essere umano etico ma non nell'etica moralistica è stato detto anche da Sbailò cioè della morale comune ma dell'etica fondativa della centralità dell'uomo quindi l'uomo come fine si potrebbe dire giusto? l'uomo come fine ecco allora effettivamente riusciremo ad avere uno sviluppo del mondo cyber più sicuro più degno e naturalmente più vivibile e più gradevole grazie bene grazie grazie al prefetto Frattasi per questo intervento così poliedrico lo vorrei definire e profondo in tanti campi però io come moderatore non mi prendo l'onere di concludere la giornata e lascio l'onere invece al professor Sbailò autore di questo bel libro che appunto ha l'onere di concludere il nostro incontro no non di concludere perché le conclusioni le ha fatte il prefetto Frattasi di chiudere switch off quindi ringraziando tutti ma ringraziando la UNINT non dimentichiamolo perché io ci tengo a dirlo e l'ho detto all'inizio del libro questo libro è stato concepito dentro queste aule i primi giorni che sono arrivato qui ci ho cominciato mentalmente a lavorare ed è un libro che nasce dentro questa comunità quindi questa è una cosa che è stata detta ma mi piace ringraziando tutti chiudere con questo grazie grazie grazie